Eopetenza significa costruzionismo, ovvero il contrario di ostruzionismo. Eopetenza è l'arte di liberare i vincoli mentali, psicologici ed ideologici rispetto al cambiamento, per renderlo comprensibile, fluido, auspicabile, conveniente, nella consapevolezza che questo è migliore della situazione precedente ai fini della tutela degli interessi collettivi. Eopetenza può identificarsi con l'arte e la strategia di facilitare il cambiamento. Eopetenza vuol dire risolvere, dal latino solvere, sciogliere, sciogliere i lacci, sciogliere i freni. Eopeteia, dal greco, facilità. Eopeteias, dinonai, dare facilità, facilitare.